Perché veramente ho trovato una bella qualità Perché in realtà è stata una scelta un po' sofferta Siete il duo che mi ha colpito di più rispetto a tutti quelli che ho visto Siete i due ragazzi che stanno avendo grandi soddisfazioni Sono arrivati anche secondi al premio Massimo Troisi Uno dei due, e non posso dire chi, è un po' provato dalla presenza di Marianna Mercurio Ha fatto dei pensieri impuri, te lo voglio dire Non posso dire quale dei due Quindi complimenti per questo premio Troisi che fanno a San Giorgio a Cremano Dove io vivo ma dove non mi conoscono Quindi lancio questa cosa E quindi come ha detto Ciro, con noi sono i doppio senso cabaret Ma forse lei non ha capito con chi sta parlando Lei sta parlando con l'onorevole Burrone del partito del cambiamento Bisogna cambiare Mamma non puoi fare se mi passi a casa alza E tu ogni tanto i gnocchi va bene? Ma a me ci diamo a casa E ce la faccio più? Non ce la faccio più? Che non ce la faccio più? Ma com'è possibile? Cioè per venire qua a Roma no? Non abbiamo preso un taxi, una metropolitana, un trrotto, niente Ma non esiste proprio, ma quale trrotto? Noi siamo il partito dell'onestà E a Percelamma fa Eh ma si imbattura, Ercolano però Sacrificio, sacrificio Sacrificio, sai Io lo voglio anche fare il sacrificio Però quello di cui voglio parlare E il ruolo che mi avete appioppato Non mi piace, non mi convince Ma perché tu vai a vedere il nome? Tu non devi vedere il nome Il ruolo che ti ho dato è perfetto per la tua persona Davvero? Ma voglio dire tu sei un ragazzo in gamba Questo è vero Sei un ragazzo onesto È vero Sei pulito Eh quindi sei, infine tu sei un capo di gabinetto Pulito Bra Il gabinetto pulito Bra Vabbè ci vuoi anche stare Eh Però possiamo evitare di scrivere il bici sulla porta dell'ufficio? E' mica colpa mia Scusa tu come ti chiamo? Walter Cialtro E le iniziali quali sono? Bici Ti trovo, ti trovo Ma trovo Però almeno l'ufficio mio può non stare in fondo a destra Ma quella è una tattica nostra Scusa noi mettendo l'ufficio in fondo a destra La gente sarà più invogliata a bussare Poi leggendo il bici sicuro ti cercheranno tutte le urne Poi voglio dire quando capiteranno quei giorni in cui sarei proprio imbegnato, imbegnato, imbegnato Rispongo occupato Bra Bra Voglio tu sei forte, tu farai successo Su capi i gabinetto Comunque ma tra poco ce ne andiamo a mangiare A proposito ce ne andiamo a mangiare ho visto un bel ristorantino qua vicino Ah vicino? Vicino a Firenze Ah no Se mangia buone Se lo pigliamo lo taxi Non esiste proprio, noi siamo il partito dell'onestà e a perce l'amma fa Comunque quanti ne siamo a mangiare? E quanti ne siamo? Sto io, Salvatore, Giovanni, Nicola Ehi, quanti ne siamo? Allora, io e loro quattro Ah, fa una cosa, prendi un attimo la calcolatrice Ah sì, un attimo solo Fai un attimo un secondo Sì Allora, fai un attimo quattro Sì Più Sì Uno Sì Vado avanti Quanto fa? Vai cinque Ah, vai cinque, vai cinque, bravo Ma sempre fatti cinque Bravo Scusate, ministro, voi siete state eletti per l'amore del cielo, ci mancherebbe, ma a quale carica Massimo ambite? Ministro dell'economia Yamba, che cazzo Ah, fammi mettere la firma qua, firma, ministro, burrone E noi l'abbiamo a farne Ma io, poi, una cosa che non ho mai capito, no, ma ministro è un cognome che ti danno loro Burro, lui una è scesa, vai cinque, una è scesa, burro Scrivo, odio, che ecco qua Comunque, hai preparato tutto che dopo dobbiamo andare da Salvini? Eh certo Ho preso tutti i file e le ho messi sul cdrom Allora, mis? Sul cdrom E ero con cdrom a Salvini Facci una pennetta Fa pennetta, che meglio Appropo, ti devo dire una cosa Ma ieri sono andato a casa Ho visto mia moglie incazzata come una bestia Sì Poi mi sono ricordato che io ti ho detto Mandale un messaggio e dille degli appuntamenti lavorativi L'ho fatto E perché si è incazzata? Eh non lo so Tu che ci hai detto? La verità E qual è sta verità? Che voi eravate a pranzo con la russa La russa come le hai scritte? La russa Ma non la russa che si pensava a biondi che lo sapevi Ma a proposito Perché poi abbiamo scritto in campagna elettorale Ma sto reddito di cittadinanza Allora, reddito di cittadinanza Come fai a non sapere che cos'è? In pratica È un incentivo economico Che noi diamo alle persone Buono Perché oltre a questo Ti diamo ben tre posti di lavoro Buono Se tu rifiuti questi tre posti di lavoro Però non avrai ovviamente i soldi Eh beh, è giusto questa cosa Però c'è il rischio che possiamo dare i soldi A chi non dà i geni di faticare, capito? Sì, è praticamente come facciamo Noi con voi politici Bravo Ma io tu sei acuto Tu vuoi fare il presidente del consiglio Che bello consiglio Aspetta, aspetta un attimo Telefono Presidente 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 Presidente, un attimo su Va bene, comunica al mio capo Un attimo su Bella notizia Bella notizia Tra un'ora si parte Dove si va? Bruxelles A Roo O Bruxelles O Belgio Ci lo pigliamo il taxi? Non esiste proprio Noi siamo il partito dell'onestà E a perma la cia fa Presidente, siamo venuti Siamo con la tua strada Venite qui Venite qui Abbiamo parlato di questo premio Troisi Comunque complimenti anche per questo secondo posto Volevo sapere un po' che esperienza è stata Bella, bella, bella esperienza Poi si è raccontato con Penso che c'era lino Banfi Lino Frassica Aperto la porta Era lino Banfi Mi ha chiesto il piacere di Perché è anziano Non so se si può dire È anziano Mi dai una mano a scendere Ma l'anagrafe lo sanno Lo sanno 82 anni Emozionati Sì ragazzi Bello Bello Molto bene Non ci aspettavamo il poio Il secondo posto Ragazzi complimenti Complimentissimi Auguri per tutto Grazie mille Grazie mille Ciao Ciro Ciao belli Perché veramente ho trovato una bella qualità Perché in realtà è stata una scelta un po' sofferta Siete il duo che mi ha colpito di più rispetto a tutti quelli che ho visto Grazie mille